I recenti accadimenti che hanno portato al rinvenimento all'interno degli istituti scolastici salernitani di discrete dosi di droga, confermando l'uso della sostanza da parte dei giovanissimi, in particolare nel capoluogo di provincia, ha spinto la Questura di Salerno ad intensificare i controlli all'interno degli istituti scolastici, al fine di cercare quantomeno di frenare il fenomeno. A tal proposito, il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio ha disposto delle operazioni mirate, proprio per ridurre ed impedire lo spaccio di sostanza stupefacente tra i giovanissimi. Una direttiva che, secondo quanto emerge nei giorni scorsi, ha portato gli agenti della Polizia Statale Salernitana ad effettuare verifiche presso un altro istituto scolastico, un'operazione effettuata dagli agenti della Polizia Scientifica in accordo con la direzione scolastica dell'istituto, che, così come le forze di polizia, vuole impedire che la droga si diffonda tra i banchi di scuola e, pertanto, cercano di fermare i fenomeni della vendita e del consumo dello stupefacente sia all'interno che all'esterno delle scuole. L'iniziativa che, nelle scorse settimane, aveva visto tra gli istituti controllati e anche l'istituto scolastico di Sala Consilina, in pieno accordo con la dirigente scolastica Vairo, che ha voluto l'effettuazione dei controlli nei plessi da lei diretta al fine di tutelare l'incolumità dei suoi alunni, ha portato nei giorni scorsi nuovi controlli in un istituto salernitano, dove gli agenti, insieme ad una unità cinofila, hanno rinvenuto 3,54 grammi di droga di tipo hashish, suddivise in quattro involucri. L'operazione ha portato al deferimento all'autorità giudiziaria competente di due giovani, in quanto trovati in possesso rispettivamente di 0,90 grammi e 1,16 grammi di hashish. Visto il diffondersi del fenomeno, dunque, la Questura di Salerno ha deciso di rafforzare i controlli all'interno e all'esterno delle scuole, puntando a garantire una maggiore presenza di poliziotti negli istituti, per favorire anche un maggior dialogo tra le forze di polizia e i giovani. Grazie.